La povertà non sia mai di ostacolo al seguire la propria vocazione, diceva Don Giustino Russo Lillo, napoletano di Pianura, nato nel 1891, che da ragazzo appunto rischiò di non realizzare il sogno di diventare prete perché di famiglia povera e salute malferma. Poi dedicò tutto se stesso agli aspiranti sacerdoti e non solo. Dio ha sofferto molto perché ci sono state tante incomprensioni, soprattutto quando si è impegnato alla riabilitazione di coloro che avevano lasciato in sacerdotio. Presto sarà proclamato santo, ha deciso Francesco ieri firmando il decreto del miracolo, la guarigione di un religioso malgascio e della famiglia dei vocazionisti, figli spirituali del beato Russo Lillo, presenti oggi in 18 paesi. La Chiesa italiana avrà presto un altro martire, Don Luigi Lenzini, parroco di Crocette di Pavullo, nel Modenese, sequestrato, seviziato ed ucciso da partigiani comunisti nel 1945, come decine di altri preti massacrati per odio politico a fine Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in Emilia. Martiri, uccisi cioè in odio alla fede, saranno proclamati anche due cappuccini libanesi morti nel genocidio ad opera dei nazionalisti turchi, costato la vita ad un milione e mezzo di armeni più di un secolo fa. Un altro martirio è quello di Isabella Cristina Amrat Campos, brasiliana, aveva vent'anni quando morì per sottrarsi allo stupro da parte di un giovane già respinto da lei.